Cazzo, c***a, c***a, cioè sei figlioso. Ehm, aspetta, rifacciamo. Cioè, proprio quando li ti avrò? Come? Del... te l'hai tolto? No, te l'hai tolto nella parte. Tu dovrai seguire qui. No, c***o, l'ho fatto male. Vai. Il titolo del nostro carro è Verso la libertà. La satira trasferisce sta figura di c***a dall'Atlantico al Mediterraneo. Nel tentativo di far riflettere qualche c***a. sul dovere dell'accoglienza. La statua della libertà diventa un c***a di diavolo in c***a. Simbolo del c***a della politica. la domanda è Grazie a tutti.